Siglato un protocollo d'intesa tra Università d'Annunzio, Guardia di Finanza di Chieti e Azienda per il diritto allo studio, finalizzato a verificare che gli studenti e le loro famiglie abbiano effettivamente i requisiti per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ovvero borse di studio e contributi per alloggio e servizio mensa. Una stretta necessaria per garantire un sostegno a chi ne ha realmente bisogno e per sbarrare la strada ai furbetti dell'Isee. C'è da tenere presente che a differenza, non so, delle università del nord-est dove il 7, l'8% degli studenti stanno sotto la sticella quindi della no taxare e quindi non pagano le tasse universitarie e noi superiamo il 50% quindi un bel volume sia di denaro inteso in termini di bilancio ma in termini di accoglienza che noi siamo ben lieti di fare agli studenti. Siamo tenuti a fare dei controlli, non è che vogliamo fare la caccia agli studenti o alle famiglie che cercano di trasgredire, assolutamente no, ci sono dei controlli random che è giusto che vengano fatti perché le agevolazioni se abbiamo delle risorse da impiegare le impieghiamo sui più bisognosi e sui più meritevoli. Quindi dobbiamo stare attenti che non ci siano dei furbi che speculano su questo. L'ultima graduatoria, approvata a dicembre del 2022, ha visto lo stanziamento di circa 9 milioni di euro a copertura di 2.560 borse di studio più quote menza e alloggio. La Guardia di Finanza in questo particolare protocollo si mette a disposizione dell'università per poter gestire quelle informazioni che ovviamente appartengono all'università ma che all'esito della loro attività istruttoria possono testimoniare degli indici di pericolosità in ordine a quanto autocertificato dallo studente. Ovviamente questa circostanza ci porterà da un lato a segnalare, una volta che saranno stati ultimati gli approfondimenti, segnalare all'università per il recupero eventuale di quelle somme che sono state indebitamente ricevute. Ma dall'altra parte provvederemo poi noi ovviamente ad effettuare anche le segnalazioni alla procura della Repubblica competente. Se la Guardia di Finanza compirà verifiche ex post, l'azienda per il diritto allo studio sarà chiamata invece a svolgere un'attività preliminare. L'Azù in accordo appunto con la Guardia di Finanza e l'Università d'Annunzio attraverso un controllo puntuale dei dati reddituali e patrimoniali presentati dagli studenti fornisce alla Guardia di Finanza quelle situazioni che possono risultare un po' critiche e fa in modo che le graduatorie che poi vengono approvate in modo definitivo dall'ente Azzù corrispondano al dato reale e quindi che l'effettivo beneficio della borsa di studio venga erogato al reale titolare di quel diritto.